Incidente mortale questa sera sul lungomare delle Palme di Siderno. A perdere la vita è stato un 48enne del posto, l'Illo Tropiano, conosciuto in città perché titolare di una avviata palestra e partecipante in passato anche a numerose gare di culturismo. Forse a causa dell'elevata velocità oppure di un improvviso malore, il centauro sidernese è caduto violentamente dalla moto, battendo con la schiena sull'asfalto e rimanendo esanimi a terra. Neanche il casco protettivo è servito a salvargli la vita. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Siderno, diretti dal comandante Luigi Zeccardo per i rilievi del caso. Non è la prima volta che il lungomare di Siderno è teatro di incidenti mortali.